benvenuto all'interno di successo startup il primo video corso che ti permette in solo tre ore di verificare se la tua idea di business è già pronta per il mercato e già presentabile ad un investitore come ho preparato per te nove blocchi all'interno del quale andrò a svelare i miei segreti su come è possibile raggiungere tutto questo partiremo come vedi qua già da un'introduzione all'interno della quale ti preparerò al video corso passeremo poi attraverso ai nove passi ai nove blocchi quindi te li sto scorrendo così li puoi vedere tutti insieme in questo momento qui come vedi sono divisi per argomento in maniera tale che tu possa sempre riprendere da dove hai lasciato e non solo puoi anche verificare il tuo grado di apprendimento attraverso degli esercizi che ho già preparato per te per esempio nella sezione di ogni video potrai andare a scaricarti non solo il video non solo la versione audio ma anche gli esercizi come semplicemente andando a cliccare sotto ogni video ti si aprirà una finestra questa qui è quella degli esercizi come vedi all'interno di questo pdf potrai scaricarlo stamparlo come meglio preferisci e qui hai una serie di esercizi di approfondimento che ho preparato appositamente per te in maniera tale che puoi verificare da subito il tuo grado di apprendimento del video corso che abbiamo fatto insieme come vedi sono tutti elementi che sono già stati preparati e impostati per te non solo all'interno del video corso successo startup puoi anche monitorare tutto il tuo grado di avanzamento e all'interno c'è anche il bonus speciale che ho preparato per te lo startup per miro ma prima di questo direi di vedere insieme magari un'anteprima del video corso successo startup e quindi ciò che andrai a trovare all'interno di questo video corso di tre ore come prima cosa ti faccio i complimenti per essere passato all'azione questa è la prima cosa importante per raggiungere il successo della tua startup adesso stai per scoprire il sistema che ti permette di sviluppare la tua startup in pochi mesi riducendo il rischio sino al 90 per cento bene questo è quello che troverai all'interno del video corso successo startup io ti aspetto per sviluppare insieme la tua grande idea e ricorda che le grandi idee arrivano per cambiare il mondo e ricorda che le grandi idee è un'interno di questo e ricorda che le grandi idee sono un'interno di questo